questa edizione di amici 2023 si è da poco conclusa in ultimo a sfidarsi sono stati la cantante angelina e il ballerino mattia e alla fine ha vinto mattia ha vinto il ballerino mattia e comunque nella disciplina del canto ha vinto angelina quello che ha vinto tutto insomma che il vincitore alla fine è stato mattia però nella sezione canto infatti tanto è vero che avevano due coppe una coppa molto grande quella di mattia una coppa più piccola angelina è stata è stata diciamo una bella festa una bella finale per entrambi e comunque complimenti al ballerino mattia che ha vinto comunque auguro tanto successo alla ballerina isabel perché era veramente veramente brava ciao a tutti da s video